quindi andiamo su per il bosco l'andata e il sentiero 923 ok qua inizia a scaldare ho preso il sentiero 923 giornata bellissima comunque veramente bella fa caldo qua siamo riparati dagli alberi sempre nel boschetto forse che siamo un po saliti trovo che faccia comunque piuttosto caldo maglia così con le maniche corte e non canotta qua ci sono le birre in fresco baracca degli alpini anche l'origano con le carte trevigiane perché ricordiamoci che sono le uniche carte da briscola che funzionano la bucchia spezia e via camminiamo vabbè facciamo un guardo altrove che bello scogliato quella altra bello vedere comunque come muta già la vegetazione arriviamo a Clagenfurt in piano attraverso un tunnel è iniziato un po salita e io non sono allenato a fine che facciamo un ruolo di pangoli ogni giorno ogni giorno poca roba è iniziato un ruolo di pangoli qui c'è? hai detto una scritta una blaglia fa disamotion anche? si puoi rincare che è al punto di rivolto adesso come si chiama? ricordo ecco si intravede il rifugio in cima no guarda di schiena 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 guarda la si vede l'altosentiero quelle persone guarda di schiena che sono alto io tanto sto guardando dove inquadra la gopro non sto guardando il resto insomma quindi scherzi diamo l'esco la montagna che bello essere ma no dico bello per l'ottopassaggio di una donna la prima delle donne abbiamo incontrato ciao siamo arrivati rifugio semenza si riporta cima la cima l'aste si riparte oltre il rifugio neve ora assomiglia di più a un sentiero effettivamente si secondo me abbiamo un po tagliato è tornando per il sentiero 923 penso quello era quello dell'andata insomma non ho via ecco ascolio qui ecco in ecco 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 si vede il lago di santa croce da qua in fondo l'altra non ce l'avevi mica sta view no giù di là no dietro bianca si può farci miliardi con la pietra miliardi si probabile non so qua si sbuca la macchina un po prima si vabbè grazie è un pietro da saltare qua no no limbo basta dire forse per un bel po di tempo c'è un secondo c'è un secondo grazie a tutti grazie a tutti